Questa sera incominciamo con il Max Fishing! Max Fishing provviso, Pagnotto Franco! Finalmente è un re! Lofi! Otra! Vai anche tu! Grazie mille! 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 Buongiorno a tutti, oggi con il secondo giro, Italia, Enrico Roscatelli. Anche tu sei un giocatore, eh? Grazie Enrico. Grazie Enrico. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Grazie mille. 3 giorni consecutivi, 2 giorni è minimo 1 giorni. 3 giorni! Alla Germania! Alla Germania! Andres Arlente! Comeunes! Alla Germania! 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 In San Ontario! io Vi all unbelievable Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.